La vita amministrativa nazionale deve essere pubblica in base alla legge sulla trasparenza. Con queste poche parole postate su Facebook, Dario Vassallo, presidente della Commissione Aria Marina Protetta a Coste degli Infreschi e della Masseta, rende conto dell'ultima riunione dell'organo, chiusa per mancanza del numero legale, e della sua richiesta sulle spese per il parco marino, rimasta in evasa. Nella giornata di mercoledì, infatti, alla riunione indetta dalla Commissione, si sono presentati, oltre al presidente, solo il delegato della Capitaneria di Porto di Palinuro, il capitano di Corvetta Antonio Bonito, e il direttore del parco Gregorio Romano, supportato dal dipendente Pietro Ferrara per la verbalizzazione della seduta. Dopo circa un'ora, visto che nessun altro era presente, è stata dichiarata deserta la seduta. In questo contesto, il presidente Vassallo ha presentato un documento che è stato trasmesso a tutti i componenti della Commissione e al Ministero della Transizione Ecologica. Appare evidente che si inizia dunque nel segno dell'attenzione, con Dario Vassallo, che denuncia l'assenza di risposta sulle spese destinate al parco marino. Oggi ne vedremo delle belle, ha scritto, sono tre volte che chiedo le stesse cose. Ma il parco del Cilento, il giorno dopo le esternazioni di Vassallo, nega debiti sulla trasparenza. La Commissione di Riserva, ha spiegato il direttore Gregorio Romano, è un organo consultivo che deve fare suggerimenti e proposte su alcuni argomenti, non ha competenze nel controllo degli atti e dei conti ed è diversa dall'ente gestore dell'area marina protetta che affianca solamente. Noi siamo trasparenti, ha continuato Romano, i nostri conti e i nostri atti sono controllati dal Ministero dell'Ambiente e del Tesoro, dai Revisori dei Conti e sono pubblicati integralmente sul sito del parco. Noi comunque li metteremo a disposizione, come sempre, di tutti gli organi che fanno parte dell'ente. Li manderò a tutti i componenti della Commissione, ho già dato mandato alla ragioneria, di predisporli e trasmetterli.